lo sapete che in etiopia c'è un caffè così buono vorrei offrirvene uno l'acqua però dovete portarla voi aiuta help for life a portare in etiopia l'acqua l'igiene e la dignità della persona invia un sms da cellulare personale al 45598 o chiama da rete fissa 45598 per help for life grazie